Veneto 1 con voi, eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben ritrovati a chi ci segue sui 97.500, ci segue quindi in audio, a chi ci guarda anche in video sui nostri canali social e sul nostro portale veneto1.it. Ben ritrovati a tutti voi da Mattia Zanardo per un nuovo spazio di approfondimento, quest'oggi dedicato ai temi sociali, purtroppo a un tema che rimane di attualità, quello anche del razzismo e dell'odio che si scatena soprattutto via Facebook. Questa è purtroppo una delle derive dell'epoca della nostra epoca, legata a queste forme di comunicazione, a questa nuova era digitale con molti aspetti positivi, purtroppo anche qualcuno invece di negativo. Ne parliamo con il rappresentante di un'azienda del nostro territorio, un'azienda vitivinicola. Il settore è sicuramente tra quelli di cui più si parla in questi ultimi anni per i risultati economici, ma oggi abbiamo qui il nostro ospite Filippo Polegato di Astoria Wine, non per parlare dei risultati pur eccellenti dell'azienda, della sua famiglia, che è certamente uno dei principali operatori del settore vinicolo trevigiano, veneto e italiano, ma proprio per l'impegno sociale che da molti anni, da sempre, l'azienda porta avanti. E allora innanzitutto, ben trovato Filippo Polegato, grazie per essere qui con noi. Grazie a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie mille intanto anche per l'invito. Cominciamo, Filippo Polegato, appunto della famiglia Polegato, titolare dell'azienda Astoria Wine di Refrontolo, una delle case vinicole più note, più affermate della marca trevigiana, però appunto lo accennavamo che da sempre manifesta un impegno proprio nel campo sociale e soprattutto sui temi dell'integrazione, dell'inclusione, del contrasto al razzismo, alle discriminazioni. Filippo Polegato, voi avete diverse iniziative, da diversi anni le state portando avanti, Partiamo, come dire, anche qui dall'ultimo spunto di attualità, perché avete voluto intervenire, uno spunto che ha fatto anche discutere, come dire, in soccorso della squadra di calcio della caserma, dell'ex caserma Serena. Ricordiamo rapidissimamente la vicenda per chi magari non avesse seguito bene, la caserma Serena, centro di accoglienza per richiedenti asilo, il maggiore, quello dove ci sono il maggior numero di ospiti della nostra provincia, tra i vari progetti, appunto, per favorire l'integrazione, è stata costituita una squadra di calcio, composta proprio dagli ospiti del centro, dai richiedenti asilo, squadra che l'anno scorso giocava nei vari campionati amatoriali, quest'anno non rischiava però di non potersi iscrivere proprio per il taglio di fondi dovuto alle nuove normative, insomma, se ne è parlato molto in generale di questa vicenda, c'è stata una riduzione dei fondi e quindi tra le prime cose che sono state tagliate era proprio questa squadra. Voi avete deciso, appunto, di sostenerla, in sostanza di pagare l'iscrizione. Di pagare l'iscrizione, beh, tutto è nato, diciamo, dal fatto che comunque anche noi abbiamo visto proprio sulla tribuna, proprio l'articolo dove si parlava, appunto, di questa tematica, del fatto che la squadra non si poteva iscrivere al campionato amatoriale di Serie B e sì che noi abbiamo questa conoscenza comunque col presidente dell'associazione amatoriale di Treviso, il signor Dincà, il quale noi abbiamo subito contattato più che altro per capire quali erano le situazioni, quali erano le motivazioni, sì che dopo lui successivamente ci ha dato proprio il contatto del presidente della squadra che non è anche il presidente poi dopo anche della società che si occupa della gestione della caserma serena, il signor Marinese, e niente, con lui proprio il giorno successivo c'è stato questo incontro direttamente proprio in sede da noi a Crocetta del Montello e niente, noi quando noi abbiamo avuto la spiegazione da parte sua il fatto che non poteva iscriversi e tutto come lei ha già detto per noi era una cosa assurda perché comunque la squadra, lo sport in generale noi pensiamo che sia proprio una delle situazioni più favorevoli di comunicazione nel senso che lo sport si riesce veramente ad arrivare direttamente con le persone e ad aprire a volte anche un dialogo quindi avevamo visto proprio questo esempio che a noi pensiamo proprio che fosse un classico e ben esempio di accettazione, poi dopo anche di integrazione proprio di queste persone e per noi sembrava assurdo che queste persone che richiedevano asilo e tutto e c'era questa situazione comunque di integrazione giusta non potessero poi partecipare il prossimo anno a questo campionato che alla fine era veramente un motivo in più e un modo diverso proprio per integrare queste persone nella comunità trevigiana tra l'altro insomma lo diciamo così Anpassan, magari ci dedicheremo un'altra dei nostri approfondimenti lo sport è un altro dei campi d'azione privilegiati di Astoria dal Giro d'Italia a tante altre di cui è partner era ormai anche quello da parecchie edizioni insomma a varie altre manifestazioni e quindi come dire vi siete trovati anche lì perfettamente a vostro agio ecco però questa è come dire l'ultima iniziativa balzata agli onori delle cronache ne avete già un'altra in cantiere perché avete un bando proprio tra l'altro una che sta proprio un progetto proprio che sta partendo è ancora in atto proprio perché tra l'altro collegandoci sempre allo sport proprio al Vinitaly quest'anno noi abbiamo presentato in una giornata proprio del Vinitaly un video dove c'erano tra l'altro proprio sei atleti della nazionale italiana di varie discipline diverse dell'atletica ovviamente con origini comunque con famiglie con origine anche europee o anche extra europee quindi c'era un po' un misto però tutti quanti italiani effettivamente italiani della nazionale rappresentano l'Italia rappresentano la maglia azzurra quindi loro praticamente in questo video non facevano nient'altro che proprio esprimere un po' ognuno le proprie esperienze le proprie esperienze che ha avuto i lati positivi e i negativi che possono aver avuto nelle loro vicende passate comunque sia a livello sportivo che non e questo video tra l'altro è proprio un video dove è stato anche patrocinato proprio anche dal CONI quindi comunque c'era anche la presenza comunque poi anche del governatore Zaia durante questa presentazione di questo video che questo video non è nient'altro poi dopo il lancio di un bando un bando che praticamente è partito ovviamente dal Vin Italy quindi ad aprile e che si concluderà a ottobre in questo bando praticamente è un bando dedicato a filmmaker videomaker e loro devono praticamente darci un progetto contro praticamente l'ate speech quindi proprio appunto contro un po' tutte quelle aggressioni o comunque quelle diciamo in modo un po' più delicato queste diciamo certo ma anche questi odiatori odiatori seriali da tastiera che praticamente si dilettono in questo scrivere proprio nei social però senza avere un minimo poi dopo diciamo di conoscenza e proprio per dare comunque questi commenti veramente anche banali e anche senza un minimo poi anche di sostanza quindi questo questo bando serve proprio appunto di creare di farci vedere quale potrebbero essere i progetti proprio per combattere diciamo queste intolleranze che ci sono nei social che possono essere di svariato genere perché comunque ricordiamo che per noi l'intolleranza non significa solo razzismo intolleranza proprio a 360 gradi quindi la violenza comunque anche che ci possono essere nei social contro gli uomisessuali o anche contro le donne in generale quindi è proprio un'intolleranza a 360 gradi poi dopo a ottobre ovviamente ci sarà un vencitore di questo bando e il vencitore praticamente sarà finanziato interamente da storia proprio per la creazione e il finanziamento di questo progetto che poi dopo ovviamente andiamo a scegliere che sarà il vencitore certo quindi si avrà creato appunto questo video che dopo naturalmente anche voi rilancerete e porterete in tutte le occasioni ecco proprio questo tema insomma su cui vi state concentrando degli haters degli odiatori seriali online leoni da tastiera insomma sono tante le definizioni di chi nascosto appunto dietro una uno schermo o dietro un computer poi spara a zero contro si diceva contro molteplici bersagli di varia di varia natura tra l'altro ecco Filippo Polegato molte aziende insomma molte altre aziende proprio per questo motivo hanno addirittura deciso di togliersi o comunque di ridurre molto la loro presenza sui social anche proprio per non esporsi voi invece continuate a rimanere anche se voi stessi siete stati bersaglio ultime iniziative insomma ne sono proprio queste iniziative di cui parlavamo insomma vi hanno esposto ovviamente a critiche usiamo un eufemismo molto eufemismo tutt'altro che costruttive insomma chiaramente però restate insomma cioè questo sicuramente perché noi crediamo anche fermamente che proprio perché un'azienda per svariati motivi per quello che ha fatto per la forza comunque del marchio proprio un'azienda deve farsi carico a volte anche di situazioni diciamo rischiose spiacevoli a livello di comunicazione ma che se poi dopo solo per un fine sicuramente positivo per un fine poi dopo tra l'altro proprio di sensibilizzare poi dopo le persone la popolazione perché comunque noi riteniamo che un po' in tutto questo discorso comunque dell'immigrazione purtroppo ci sia anche tanta confusione perché le persone comunque è vero che comunque è sempre facile soprattutto nei social come si diceva adesso scrivere senza connessione di causa però secondo me è anche vero che proprio in generale a 360 gradi anche le informazioni che ci vengono date dai giornali non giornali tv e così via purtroppo sono sempre anche un po' strumentalizzate e quindi poi dopo gettano un po' anche nella confusione poi dopo anche logicamente la popolazione quindi per noi diciamo che è proprio ancora più un motivo aggiuntivo che noi dobbiamo anche farci carico a volte anche non solo di produrre degli ottimi vini ma anche se possibile informare e anche sensibilizzare le persone una sorta di responsabilità sociale di impresa insomma che come accennavamo all'inizio a storia porta avanti ormai da diversi anni perché erano i primi anni 2000 il 2005 se qui mi sono appuntato insomma che avete diffuso questo primo video poi i mondiali del 2006 la sponsorizzazione della nazionale del Togo insomma un cammino che ormai portate avanti più grande d'Europa quindi non è proprio una sagra di paese nel senso che comunque è un evento veramente grosso per un discorso sociale poi come dicevo prima da anni che comunque anche noi siamo sponsor sia del Pride proprio di Treviso e anche di Milano quindi noi ci siamo sempre mossi fin da sempre sotto questo lato perché prima di tutto è proprio un credo diciamo personale di me e anche della nostra famiglia quello poco ma sicuro e poi dopo come si diceva prima appunto adesso essendo proprio un credo da sempre diciamo che negli anni 2000 o anche negli anni 90 erano tutte azioni che casomai rimanevano tra virgolette un po' in sordina anche perché erano anni diversi anni dove casomai le tematiche erano completamente diverse quindi sicuramente negli ultimi anni tutte queste nostre azioni hanno portato molto più risalto ma proprio perché come si diceva anche prima si sta parlando proprio di tematiche proprio attuali e quindi diciamo che prendono sicuramente più risalto però come dicevo prima è da noi da sempre perché fa parte proprio del nostro modo di essere in primis proprio come persone a questo proposito a questo proposito lei è trevigiano cresciuto a treviso insomma chiaramente di origini non italiane ritiene che la nostra società sia una società trevigiana italiana più in generale sia una società razzista discriminatoria sente questo? ma io allora devo essere sincero che comunque nonostante tanti anche mi chiedono il fatto che comunque proprio anche treviso viene vista comunque come una città un po' difficile però devo essere sincero che sia in Veneto o a Treviso a me personalmente insomma ho 28 anni sono stato adottato che avevo appena 4 mesi quindi alla fine è da sempre che sono qui però non ho mai avuto nessun episodio io personalmente a Treviso e in Veneto ho avuto degli episodi fuori dal Veneto anche in zone che uno non si direbbe mai quindi per dire che alla fine secondo me soprattutto negli ultimi anni c'è comunque un'ignoranza generale che purtroppo secondo me è cresciuta la prima la prima cosa che voglio dire perché più che altro non credo che sia tanto un discorso anche di razzismo ma anche proprio un discorso proprio di ignoranza e proprio di un abbassamento proprio culturale in generale che viene dettato un po' diciamo dalla scuola ma un po' dall'istituzione e un po' da tutti i messaggi che ci vengono dati ogni giorno se io mi penso comunque anche agli esempi che c'erano nel dopoguerra o anni 80 anni 70 sono un po' diversi rispetto a quelli attuali è vero forse in questo senso la moltiplicazione dell'informazione in realtà poi non è meglio la moltiplicazione dei contenuti non ha creato vera informazione per tornare al tema anche dei social network ma qui ci addentriamo in discorsi molto complessi che meriterebbero riflessioni ben più ampie purtroppo tra l'altro il nostro tempo sta andando a concludersi e un'ultima considerazione voglio chiedere a Filippo Polegatto tornando come dire un po' al core business economico dell'azienda dell'azienda di famiglia che abbiamo detto è uno dei player maggiori del settore vinicolo trevigiano veneto italiano ecco si è molto parlato del riconoscimento del patrimonio UNESCO per le colline di Conegliano Valdobbiadene un'area in cui voi siete insediati siete proprio all'interno insomma di quest'area ecco può essere uno sviluppo per il territorio per il Prosecco e la nostra enologia stessa come la vedete allora questo sicuramente anche perché secondo me in ogni caso questa opportunità proprio questa riconoscenza che c'è stato proprio all'interno però comunque nel territorio che all'interno poi dopo proprio del DOCG del Conegliano Valdobbiadene diciamo che per noi e anche un po' per tutti è veramente una cosa positiva perché ricordiamoci che intanto ci sono soltanto dieci aree vitivinicole riconosciute come potremano UNESCO al mondo in Italia ce ne sono solo due noi e le Langhe quindi in Piemonte e quindi per noi è soltanto un orgoglio far parte di queste sole dieci al mondo e poi dopo questo sicuramente sarà un motivo molto sicuramente positivo per poi dopo andare a aumentare tutto quello che è il turismo enogastronomico che è sempre più in crescita e secondo me proprio era quello che un po' ci mancava nelle nostre zone perché con questa scusa secondo me ci sarà sicuramente molto più sviluppo in tal senso vuol dire che anche le aziende quindi anche noi tutti ci dovremmo attrezzare molto di più su quelle che poi dopo sono tutte le visite aziendare e comunque la parte di ristorazione che è già sviluppata però serviva comunque un ulteriore impulso quindi sicuramente questo il fatto di essere comunque dentro queste zone sicuramente incentiverà tantissimo tutto questo reparto del turismo enogastronomico e poi dopo servirà sicuramente anche a livello di estero proprio di mercato estero dare anche più chiarezza su quelle che sono le zone dato che comunque all'estero viene venduto molto più che DOC rispetto che al mercato italiano che è completamente diverso ma proprio per un discorso ovviamente sì sicuramente di prezzo ma anche per un discorso anche un po' di ignoranza su quello che può essere le varie aree quindi per noi è oltre ad essere un orgoglio un motivo anche molto più importante per far capire sia al mercato italiano ma soprattutto anche all'estero quali sono le diversità e le aree e quindi anche questo un veicolo appunto per far conoscere le nostre produzioni anche all'estero e chissà per aprire ulteriormente il territorio anche da un punto di vista sociale insomma con ulteriori scambi e quindi ritorniamo un po' al tema di partenza siamo davvero in conclusione io ringrazio molto Filippo Polegato di Astoria Wine per essere stato con noi per averci presentato soprattutto le iniziative in campo sociale contro il razzismo contro ogni forma di intolleranza che l'azienda trevigiana sta portando avanti conducendo da molti anni grazie per essere stato con noi grazie mille a voi a tutti e spero di vedervi presto grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito l'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui 97 e 500 e sui canali video di Veneto 1 Veneto 1 con voi eventi in agenda